Siamo tutti, in mezzo al campo e tutti i genitori che sono stati in moto possono servizi a prepararsi per i caratteristiche di la città e siamo agli unici e siamo agli unici e siamo a Poligno, come preventivato abbiniamo a questa manifestazione la partita di Serie A uno spettacolo unico per questi bambini stasera sono più di 400, tutta la regione ha risposto come ci aspettavamo con grande euforia e entusiasmo e qui a Poligno abbiamo trovato anche un'ottima organizzazione che ci ha permesso veramente di far divertire questi bambini e adesso sono in attesa dell'arrivo dei giocatori della Serie A per poter avere foto e autografi e qui a Poligno abbiamo trovato anche un'ottima organizzazione e qui a Poligno abbiamo trovato anche un'ottima organizzazione e qui a Poligno abbiamo trovato anche un'ottima delle forse